vai ah che è? è dura dura? è dura lei? ah vai 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 no però aspetta guarda no no ti dobbiamo fare qua ah qualcuno mi deve fare un po di estratto di mela ah eh Andri tu compri l'estratto di mela dai non lo so non lo so l'estratto di mela? si l'estratto di mela non lo so faccio dire che non è